Vi voglio proporre delle barrette al cioccolato con frutti rossi, fiocchi d'avena e nocciole. Per preparare queste barrette al cioccolato vi occorrono 150 g di cioccolato fondente, 150 g di cioccolato al latte, una tazza di frutti rossi, 100 g di nocciole tritate, una tazza di fiocchi d'avena. Il procedimento è facilissimo e velocissimo. Sciogliete il e unite gli ingredienti. Versate il composto in uno stampo e lasciate raffreddare.